Ciao a tutti e benvenuti in questo primo episodio di Calcio Mercato Beach Calcio Mercato Beach che è la nuova rubrica del canale di Montoneir dove parleremo di calcio mercato, di notizie ufficiose, ufficiali, cassate, boiate e tutto ciò che riguarda appunto il calcio mercato come se foste in spiaggia appunto dove tante chiacchiere dell'ombrellone sono vere, tante chiacchiere dell'ombrellone sono puttanate benvenuti, iscrivetevi, iscrivetevi, condividete, sono il vostro Montoneir partiamo subito con la raffica di oggi delle notizie appunto di calcio mercato è un video che è un po' di ore che provo a fare perché l'avevo fatto col green screen con lo sfondo del mare era una figata, era bellissimo però purtroppo la qualità video faceva schifo e la qualità audio di più, quindi per cui purtroppo vi dovete contenere di un finto mare che c'ho addosso io qua e con una maglia tra l'altro anche impolverata e piena di peli benissimo ho detto tutte queste fregnacce però gli occhiali da sole me li sono tenuti apposta così almeno dai un minimo di beach c'è, beach inteso spiaggia non capite male quell'altro termine inglese, benvenuti ancora appunto al canale, iscrivetevi sempre, mi raccomando allora partiamo dalla notizia bomba di oggi, avevo detto che non dicevo la parola bomba benissimo, perfetto l'ho già detta, Sabatini, Sabatini non verrà, non rimarrà a Salerno non rimarrà a Salerno, ci sono state divergenze col presidente per soldi che dovevano essere dati ai procuratori che non sono stati dati, per persone non ufficialmente nell'organigramma della Salernetana che hanno parlato di mercato, per la scappata di Cavani che non è piaciuta appunto a Sabatini, per appunto cose e non unità di intenti su tante cose, purtroppo la Salernetana si separa da Sabatini, Sabatini dice in modo amichevole, gli occhiali da sole a specchio vi fanno rivedere la mia luce davanti, mi dispiace per voi, detto questo spero che la Salerno non se ne debba pentire perché secondo me il 50% della salvezza della Salernetana oltre che giocatori e allenatore è appunto di Sabatini che ha portato buoni giocatori, chiacchiere appunto anche delle divergenze sono che alcuni giocatori di quelli che ha portato non hanno reso come in realtà si aspettava il presidente ma ragazzi da qui a mandarlo via ce ne passa un bel po', spero per la Salernetana che non debba pentirsi di questa cosa, spero per la Salernetana che Nicola non vada via per questa cosa perché sarebbe una massata doppia abbastanza abbastanza grossa. Passiamo pagina, scorriamo pagina, andiamo a un'altra notizia di quella di ieri, di stanotte, di quando volete voi, che Andrea Soli è stato scaricato dall'Empoli, altra puttanata secondo me fatta da questa società perché Andrea Soli è un ritorno all'Empoli non ha reso molto ma comunque sia ti ha salvato, ti ha salvato Andrea Soli è un mister che merita tanto come merita tanto appunto Nicola, come merita tanto Sabatini, staremo a vedere staremo a vedere dove andrà Andrea Soli, Zanetti del Venezia dovrebbe andare, ex del Venezia dovrebbe andare all'Empoli, non lo so, non lo so questo Empoli che fa sempre così, si salva un anno poi va giù, prende il paracaduto e poi torna su, non me ne vogliono i tifosi un po' lesi ma Presidente Corsi a me non mi ha mai convinto più di tanto per queste cose qui e questa operazione qui ragazzi boh. Lascia il tempo che trova, parliamo anche di Atalanta, parliamo di Atalanta, Gollini non viene confermato come già si sapeva dal Tottenham, Gollini hanno chiesto informazioni, Torino, Napoli e Fiorentina, la Fiorentina sapete benissimo, aveva detto e chiesto questa cosa dello scambio con Quame che per ora sono solo chiacchiere perché poi bisogna rivalutare anche le valutazioni effettive dei due giocatori eccetera eccetera, a vedere un po' come appunto andrà a finire questa storia qui, il Torino, il Napoli e la Fiorentina appunto hanno chiesto informazioni su Gollini soprattutto se poi a Napoli dovesse andare via Ospina. Staremo a vedere, staremo a vedere ma al 99% secondo me Musso è titolare e Gollini andrà via. Altra notizia sull'Atalanta, la Fiorentina ha chiesto informazioni per Molina magari, per Lovato, Lovato che rientra dal prestito del Cagliari, Cagliari è retrocesso, staremo a vedere, io alla Fiorentina Lovato non glielo darei, io Lovato me lo terrei, staremo a vedere se appunto è la puttanata da ombrellone, la cavolata da ombrellone o se ci sarà qualcosa di vero. Valencia che ha comunicato l'esonero a Bordalas e quindi inizia l'era gattuso ufficiale a Valencia, quindi grande Rino che torna appunto in corsa. Altra chiacchiera di panchina, telenovela appunto terminata, pare a Udine, arriverà Sottil, Sottil che non senza polemiche appunto con il presidente dell'Ascoli è riuscito in un modo o nell'altro a liberarsi e appunto andare a Udine. Udine appunto che aveva dato il ben servito a Cioffi per anche lì divergenze. Napoli, Napoli, Mertens, pare che gli sia stato offerto un contratto per il rinnovo da 1 milione e 4, 1 milione e 8, ragazzi le cifre più o meno sono quelle, da De Laurentiis, De Laurentiis invece ne avrebbe offerti 3 a stagione a Bernardeschi. Capite benissimo che il buon Mertens, lo stavo chiamando Ciro, ma va bene anche Ciro Mertens che però è il figlio, il buon Driss ha più o meno rispedito ammittente perché comunque per quello che ha dato Mertens al Napoli meriterebbe più considerazione da parte di De Laurentiis che mi lascia sempre più perplesso. Per carità Bernardeschi, giocatore che per me a Napoli farebbe anche bene, ma passare da 1 milione e 4 a 3 milioni per Bernardeschi e 1 milione e 4 per Mertens, cioè da qui ne passa un po' di acqua sotto i ponti. Rudiger, nuovo giocatore del Real Madrid, ufficiale, praticamente ufficiale, questione di mezz'ora fa. Pogba, ieri il Manchester United gli ha dato il grazie, ciao e arrivederci. Quindi ora staremo a vedere se andrà alla Juve come pare abbastanza scritto il Pogba o se andrà al PSG. Vedremo, vedremo. Oggi girava addirittura chiacchiere che Guardiola lo voleva, ma questa per me è veramente una puttanata anche perché poi passare dall'United City scatenerebbe non so quali polemiche. Penso di avervi detto praticamente tutto. Beh sì, la chiacchiera di Muriel alla Juve lo sapete come secondo di Vlaovic. Anche lì staremo a vedere cosa c'è di vero. Ieri addirittura era girata la voce di Atebor. La Juve è interessata a Atebor, io glielo porto di corsa, come Pessina lo porto di corsa a Monza, se è vero che lo vogliono. Monza che pare aver chiesto informazioni sia per Candreva, sia appunto per Belotti e Messias. Staremo a vedere cosa faranno il duo Berlusconi e Galliani per riportare questo Monza a un buon campionato di SVA. Vediamo se ci riusciranno. Pare quasi sicura la firma per il Monza di Ranocchia dell'Inter, a fine contratto con l'Inter e anche Candreva con la Sampdoria, della Sampdoria scusate, trattativa avanzata. Quindi staremo a vedere cosa succede. Io ho cercato di essere il più sintetico possibile. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, supportate questa nuova rubrica Calcio Mercato Beach, che appunto vi parlerà di mercato ufficiale, non ufficiale, boiate, cassate, cose vere, voci, chiacchiere. Supportatemi, ne ho bisogno. Iscrivetevi a questo canale. Arriviamo al mille famosi e fatidici. Vi voglio un gran bene a tutti, anche quelli non iscritti, però se vi iscrivete vi voglio più bene. Vi abbraccio. Buon weekend a chi lo farà. Invece chi torna a lavorare come me domani, buon lavoro. Chi farà appunto il ponte del 2 giugno che arriva a lunedì. Invece molti come me, altri hanno lavorato oggi, altri lavorano domani, altri lavoreranno domenica, altri lavoreranno sabato, altri lavoreranno venerdì, sabato e domenica, altri lavoreranno oggi, venerdì, sabato e domenica. Alla fine vi voglio bene a tutti, soprattutto ai lavoratori festivi. Ecco, così l'ho detta, così facciamo un po' di propaganda. Ragazzi vi abbraccio forte, buona serata, buon tutto, ci vediamo appunto al prossimo video. Il vostro Montaner, un abbraccio.